Ok, quanto è importante l'istruzione artistica a Cagliari? È molto importante perché comunque da quello che ho potuto vedere oggi in questa gita che stiamo facendo con i ragazzi e con Mimmo abbiamo visto delle realtà veramente sconcertanti ad esempio ho visto che gli spazi sono angusti, che gli spazi non sono adeguati alle esercitazioni dei ragazzi, quindi è un'istruzione adeguata e quindi trovo molto importante e grave che ancora nessuno sia occupato e portare avanti questo discorso dell'arte sembra che l'arte sia una cosa così, giusto per divertirsi, un gioco ma non è un gioco, non è un gioco, è un indirizzo di questi ragazzi in cui credono e quindi vorrebbero portare avanti sia a livello di liceo ma soprattutto a livello di accademia perché come tutti gli altri indirizzi scolastici che vengono portati a termine questo non viene portato a termine, quindi lo trovo grave, gravissimo questo non mi sembra giusto lasciare questi ragazzi allo sbando aspettare che se ne vadano via e che poi a fine che non tornano qua perché una volta che uno si stabilisce in un contesto dove magari viene più apprezzato viene più considerato, malgrado che questa sia la sua terra verrà difficile tornare nella propria terra grazie 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 grazie